Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa crema pasticcera al cioccolato. Questa delizia è una fantastica e cioccolatosa variante alla classica crema pasticcera che darà un sapore più intenso e goloso alle vostre preparazioni. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa sfiziosissima ricetta ci serviranno 500 ml di latte fresco intero, 125 g di zucchero simolato, 45 g di amido di mais, 6 tuorli, 100 g di cioccolato fondente tagliato a scaglie ed infine un cucchiaino di estratto di vaniglia bourbon. Per prima cosa abbiamo già messo il latte nel pentolino al quale aggiungiamo l'estratto della bacca di vaniglia bourbon e lasciamo il tutto fino a che raggiungerà il suo bollire. Poi in una ciotolina sbacchiamo per bene le uova assieme allo zucchero Finché non diventeranno composti omogenei, mi raccomando dobbiamo fare veloci perché altrimenti lo zucchero si cristallizzerà. Giunti a questa consistenza possiamo aggiungere l'amido di mais. Fatto ciò mescoliamo il tutto per bene finché anche quest'ultimo ingrediente si sarà amalgamato per bene al tutto. Mescolati per bene tutti gli ingredienti non ci rimane altro che, aiutandoci con un mestolo, versare un po' del latte caldo che stava scaldando nel pentolino nel nostro composto. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro latte. Una cosa importante è mescolare piano. A questo punto possiamo anche prendere direttamente il nostro pentolino e versare il latte. Fatto ciò lo trasferiamo dentro il nostro pentolino, tutto il nostro composto. Mescoliamo un pochino il fondo. e lasciamo il tutto a cuocere finché non si addenserà. Una volta addensata la nostra crema pasticcera non ci rimane altro che lasciarla cuocere per altri 2-3 minuti mescolando continuamente. E dopo 3 minuti di cottura spegniamo il fuoco e finalmente possiamo aggiungere il nostro cioccolato. Poi mescoliamo energicamente finché il cioccolato non si sarà sciolto e la crema sarà liscia e omogenea. E' finito di sciogliere anche il nostro cioccolato non ci rimane altro che trasferire la nostra crema su un piatto basso e largo. E fatto ciò copriremo il tutto con pellicola alimentare trasparente e lasceremo raffreddare il tutto. Ovviamente a temperatura ambiente. Ed ecco qui la nostra crema pasticcera al cioccolato pronta all'uso. Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di una crema pasticcera al cioccolato. Paradisiaca ragazzi, veramente è buona, vellutata, corposa, cioccolatosa. Proprio è talmente buona che se potessi mangerei tutta la ciotola. Ragazzi, veramente è fantastica, assolutamente da provare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella! Ciao ragazzi!